Anticipazioni puntata Il segreto di venerdì 9 dicembre 2016 Emilia non si fida più di Alfonso, che invece non si dà pace e teme che lei non riuscirà mai a perdonarlo. Berta si comporta in modo stranamente e insiste nel sostenere che qualcuno si sia introdotto in camera sua rubandole una foto importantissima. Dopo l'ultimo film visto al cinema, Mattias sembra comportarsi come un soldato e sta sempre in allerta nel caso si palesasse il nemico.